Noi donne, quando ci troviamo di fronte a una valigia vuota, reagiamo in due modi. Le prime sono le minimaliste. Ossessionate dal bagaglio leggero, portano solo lo stretto indispensabile. E poi ci sono le esagerate, che porterebbero con loro l'intero armadio. Ma da oggi arriva un nuovo metodo, che ti permette di raggiungere la felicità a portata di trolley.